E' un'eredità e una rendita. Dovete recitare tutto quanto è Shoshabok. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Edoardo, la settimana prossima papà Nilo lo fai tu. Fattarai battuta, titina e così proviamo. Andrà a finire che mi farai le scarpe. Io ti voglio bene. E' il suo figlio di Zeduro. E' perché tu no? Tre sono i nostri figli. L'eredità si divide in parti uguali tra loro. Me lo devi promettere. Quando torniamo a settembre ci riprendiamo Peppino con noi. Papi! Noi siamo i fratelli da Filippo. E non ci dobbiamo mai dividere. Guardate qua. Ha copiato anche l'illustrazione di D'Annunzio. Basta! Basta! Abbasso i contrafattori! Evviva Gabriele D'Annunzio! Evviva Gabriele D'Annunzio! Evviva Gabriele D'Annunzio! Scarpetto! Si aspettava di essere rinviato a giudizio. La mia non è una contraffazione. E' una parodia. Tante causa a me. Come se fossero delinquenti. E' stato rimboscato. A forza mia! E ho pubblico! Non so. Non so nessuna. Ma so viva. Gloria ai nostri figli. E a facci chi ci può male. Condannando me! Condannate un'intera forma d'arte! Facciamo zitta zitta. Per me tutti questi discuti sono vari. Non esistono teatri più o meno d'arte. Esistono gli artisti. Non so nessun, ma so nessun. Dimitri. A permakare. Con några ozansi! Entren cultura.